Buongiorno, volevo ringraziare tutti i presenti alla conferenza stampa dell'ITF da 15.000 dollari che la società che ho l'onore di rappresentare, lo Sport Club Noa Casale, oggi ha fatto nella sala consigliare del nostro comune. E' veramente un piacere poter per il secondo anno consecutivo organizzare questo torneo aperto a giocatori dal roseo futuro. Senza dimenticare Yannick Sinner che l'anno scorso, partendo dalla Nuova Casale, ha incominciato un percorso veramente importante scalando le classifiche mondiali. Il torneo vuole ricordare Maurizio Cucchi, un amico, oltre che un grande sportivo e amante del nostro sport. Quest'anno abbiamo voluto ricordare, in questa occasione abbiamo voluto ricordare la sua figura. Ciao a tutti, sono il direttore del torneo 15.000 dollari città di Casale Monferrato. Presso la Nuova Casale, dal 13 al 19, si disputerà questo torneo internazionale, un evento molto importante, soprattutto perché arriveranno giocatori da qualsiasi parte del mondo. Abbiamo un tabellone ricco. La testa di serie numero uno sarà un russo, attualmente numero 383 ATP. Oltre naturalmente a tanti italiani, compresi Fonio, Berrettini, Rondoni e le nostre wildcard del circolo, che sono Filippo Moroni e Bordone Alessandro. Siamo contenti perché la seconda edizione, la prima, è stata un successo e quindi speriamo appunto dal 13 al 19 di maggio di dare spettacolo sui campi della Nuova Casale. Faccio un in bocca al lupo a tutti. Sarà una settimana impegnativa. Il tabellone principale sarà composto da 32 giocatori, 20 che avranno diritto, più 4 wildcard, più 8 qualificati. Vi aspettiamo. Siamo sicuri che sarà un'ottima settimana di tennis. Siamo sicuri che sarà un'ottima settimana di tennis.